buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato a fortnite ormai siamo nel 30 ottobre del capitolo 3 stagione 4 stima numero 6 vediamo oggi ricarichi l'incubo danza con personaggi per 10 secondi e parla con un personaggio per ottenere un travestimento oggetto quest'ultimo l'ha fatto tre volte quindi parlo dallo stesso personaggio nella stessa partita quindi un carico davvero semplice per ottenere finalmente il piccone obliteratore dunque amici eccoci qui questi sono i tre personaggi che vi danno la possibilità di ottenere il travestimento noi andremo a tana strana intanto vi ricordo di iscrivervi al canale attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati e supportare il canale con un bel like eccoci qui 1 2 e 3 abbiamo completato il primo incarico ora completeremo il secondo evidente qua ballando per 10 secondi con il personaggio e abbiamo completato tutti gli incarichi l'incubo 2022 abbiamo sbloccato tutti gli oggetti fatemi sapere con un momentino qua sotto cosa pensate e noi ci vediamo al prossimo video ciao no Grazie a tutti.